Siamo qui oggi con i ragazzi del servizio civile. Sono ormai 14 anni che la città metropolitana si occupa di progettare insieme agli enti questi incontri di formazione per i ragazzi che decidono di mettersi al servizio per 12 mesi della loro vita, per il territorio, per le buone pratiche, per lavorare al servizio degli altri cittadini. Questo è un momento iniziale di formazione e per noi è importante incontrarli, conoscerli e avvicinarli alle istituzioni. È il loro primo momento nel quale cominciano ad avere uno stipendio e quindi potrebbero poi utilizzare questa opportunità anche poi da spendere nel mondo del lavoro. È una possibilità per noi ragazzi studenti per portare tra virgolette qualche soldino a casa. Io ho intenzione di pagarmi le tasse universitarie fino a quando non dovessi laurearmi personalmente senza andare a chiedere qualcosa ai miei o così via. È in più un'esperienza perché insegna a gestire appunto nel mio caso sala stampa, profili Facebook, tutto ciò che riguarda la comunicazione scuola, mondo, mondo scuola. e poi anche per avere un rapporto diretto con ragazzi delle nuove generazioni che saranno poi quelli che se divento professore mi ritroverò tra le mani.